Coucou mesami, bentrovate e bentrovati, potere del trucco e parrucco e dell'antidolorifico, come mi ha detto la dolcissima anestesista che mi ha seguita, perché far soffrire il corpo quando esistono gli antidolorifici, i grandi antidolorifici, che mi permettono di darmi quell'autonomia di 20 minuti e registrare. Come dicono le quotate veterane, voglio ringraziare lo sponsor di oggi che mi ha inviato questi due bellissimi smartwatch, vi registro il video ora per darvi la possibilità di usufruire del mio codice sconto Elisa50R, ve lo lascio qui in infobox, perché la promo dura dal 19 al 25 giugno se non erro, comunque vi lascio giù tutti i riferimenti, io ho colto l'occasione al balzo, non solo perché è molto molto elegante, cinturino in silicone analergico rosa cipria con il quadrante in questo rose gold bellissimo, è uno smartwatch intelligente, vedete i messaggi dei miei figli oggi, visto che io non posso guidare, l'unico che poteva accompagnare Filippo che aveva l'esame finale orale di terza media è Tommaso che l'ho accompagnato e quindi mi hanno ora scritto siamo arrivati per la prova dell'orale, oggi pomeriggio. Tra l'altro vi arriva in questo pack elegantissimo e proprio perché Filippo ha finito la scuola penso che lo regalerò a lui e poi di conseguenza dovrò regalarlo anche agli altri due, ha la sua ricarica che tra l'altro è calamitata nel retro del quadrante, è veramente bellissimo e comodissimo, lo ricaricate, vi dicevo che questa versione è praticamente impermeabile, vi permette di monitorare non solo il meteo ma addirittura la frequenza cardiaca che in questo momento di convalescenza per me è importante, anche di monitorare il sonno, ha un contapassi quindi se fate attività vi dice anche le calorie che consumate durante le vostre attività sportive, riceve messaggi Instagram, Whatsapp, mail, veramente comodissimo, io l'ho messo subito in uso, mi sembra un bello orologio, sono sempre stata contraria ad acquistare proprio l'Apple Watch, mi sembrano soldi eccessivi buttati, quindi solitamente questi orologi costano 36,50 con il mio codice sconto che vi dà diritto al 50% lo portate a casa a 16 euro e 3 ma neanche lasciarlo lì, per l'estate se dovete andare al mare e siete comunque attenti al fashion look, al glamour, io direi che sono veramente carini anche per un regalo come voglio fare io a mio figlio, si sa i ragazzi sono disattenti quindi anche se comprate un orologio del genere che sicuramente avrà la sua durata, vi faccio vedere nel frattempo come vi arrivano ben impacchettati, questo è il secondo orologio molto più elegante mi verrebbe da dire da ufficio, vedete la forma più sottile e ha il quadrante incurvato, vedete qua bellissimo, completamente protetto, potete cambiare anche i cinturini facilissimo perché c'è proprio un clic clac nel retro e nelle istruzioni guardate che meraviglia, questo è un po più fine da ufficio, da cerimonia e questo da tutti i giorni, ho veramente pensato di dire sì a questo brand, a questa azienda perché mi sembra un oggetto intelligente con un costo consono dal mio punto di vista con mille funzioni, i dati dell'attività fisica per me sono importanti, i famosi 10.000 passi che facevo e spero di poter rifare al più presto, quindi monitorare i passi, le calorie bruciate, il vostro benessere fisico, una cosa importante vi monitora il sonno, la qualità del vostro sonno e ha il cardiofrequenzimetro, lo potete benissimo portare anche al mare, non c'è problema e io farò così, regalerò a Filippo, tra l'altro ci sono tantissimi modelli anche con il quadrante rotondo, regalerò un orologio del genere perché è elegante, colorato, giovanile, soddisfa tutte le mie esigenze, è comunque un orologio che può essere sia funzionale per il tempo libero e quindi anche con un design diverso dinamico ma anche con un design elegante come in questo caso per l'ufficio, per delle cerimonie, potete comprare centurini per intercambiare a vostro piacimento e si presta veramente ad essere utilizzato per il tempo libero, per le occasioni speciali, per seguire il vostro stato di salute, per avere a portata di mano la messaggistica che solitamente appare sul cellulare. Gli orologi sono leggerissimi, pesano pochissimo quindi non sono assolutamente pesanti, invadenti, ingombranti, pesano meno di un uovo, impermeabili anche al sudore, cosa importante per quanto riguarda l'estate non solo all'acqua di mare e piscina ma anche al sudore, anche in doccia eventualmente si possono mettere e potete scegliere tutti i quadranti che volete con le lancette, sono personalizzabili, c'è una vasta scelta, favoloso, fabulous. Approfittate dello sconto così come farò io, io una di voi perché ovviamente per soddisfare tre ragazzi, tre figli sicuramente è molto più allettante un acquisto del genere che non di altri brand. Ricariche semplici e veloci, ormai tutti noi siamo abituati ad avere ricariche usb, si può ricaricare direttamente anche al computer se siete a lavorare. Altra nota importante è che è semplicissimo, quando vi arriva dovete connetterlo come un dispositivo bluetooth, inquadrare il codice QR, scansionarlo, vi si apre l'applicazione che riconnette il cellulare all'orologio e quindi siete online. Per chi è madre di tre figli come me non mi tartassano di messaggi, comunque mi scrivono quando arrivano, quando partono, avere sott'occhio il messaggio diretto senza dover aprire il cellulare che molto spesso è appoggiato altrove, anche in ufficio non lo tengo mai vicino ma mai sott'occhio perché mi deconcentra, devo essere posizionata su ciò che sto facendo a terminale, voi capite che è una manna. Quindi grazie all'azienda, grazie a voi, vi lascio tutto in info box, aprite sempre la tendina che io lascio lì tutti i riferimenti. Ora parliamo di cose belle, in tantissime, quando vi mostro i prodotti Isana, mi chiedete ma dove si riperiscono? Dove li posso trovare? Allora Isana è la sorella di Balea, se Balea viene rivenduta da DM Italia, Isana viene rivenduto dal Rossmann che è un negozio simile DM che ha questa linea altrettanto valida di prodotti e con questi pack splendidi, ma non solo i pack, anche i prodotti sono favolosi. Quante volte vi ho recensito gli scrub corpo? Fermi lì! Pack bellissimi ma prodotti funzionali. Allora questa è un'acqua ghiacciata al profumo di menta e lampone. Voi non potete sapere che refrigerio, che sollievo mi ha dato lo scorso anno. Ne avevo prese cinque bombolette spray, l'ho regalata anche alle mie colleghe in ufficio. Il sollievo che mi sta dando ora per riattivare la circolazione post intervento, questo è un ghiaccio istantaneo favoloso. Un prodotto del genere, almeno io in Italia non l'ho trovato, me lo garantisce Rossmann con Isana. Quest'acqua meravigliosa di Isana, sempre del Rossmann, con questo profumo esotico che ricorda paradisi tropicali, spiagge caraibiche, cocco, sole, mare, vacanze, estate, favoloso. Vi avevo strapromosso questo zucchero oil peeling che Isana fa sapientemente e i prezzi sono irrisori. L'altro prodotto sarebbe uno shampoo e balsamo due in uno, sempre della stessa linea dell'anno scorso. Io ricevo questi prodotti grazie all'aiuto di Valentina. Tutto questo è possibile grazie all'aiuto, alla pazienza e alla disponibilità di Valentina Cardillo. Lei è qui su YouTube come Ache Mitica, fa tantissimi video, si è prodigata anche quest'inverno con i calendari dell'avvento che si trovavano dal Rossmann. Se la volete contattare fatelo su Instagram perché lì lei poi vi darà il contatto Whatsapp che è un po' più privato e personale e vi farà entrare in questo gruppo dove ogni tanto lei manda le novità. Io le avevo già monitorate, quindi quando lei ha dato il là, anche lei è una mamma, quindi a tempo perso, nei ritagli del suo tempo prezioso, va alla ricerca dei prodotti che noi le indichiamo e poi ce li spedisce. Quindi a carico nostro ovviamente la spedizione, il costo dei prodotti che è irrisorio e un minimo disturbo per lei. Venite ripagate dalla velocità di Valentina, dalla qualità dei prodotti Isana che molto spesso superano quelli di Balea e hanno sempre pecca accattivanti. Se vi interessa io vi faccio vedere quello che ho scelto e partirei da una edizione limitata di Rival che dovrebbe essere una sorellina di Essence e Catrice che si trova dal Rossmann. Molto spesso questa linea di cosmetici, makeup, lancia delle perle. Di questa linea che vi lascio io ho intenzione di prendere sia il pennello viso, mi piace la palettina perché le youtuber tedesche ne hanno detto meraviglie e anche questa penna, matita, ho sempre difficoltà con le traduzioni. Sorvolerei sul bronzer body e viso perché ne ho tanti ma ne dicono tutti meraviglie. Isana esce anche con delle linee stagionali di prodotti come questa la Summer Night, l'anno scorso c'era in versione arancia e cocco, vedo arancia e gardenia, vari doccia gel estivi Dream Beach con papaya oppure watermelon. Vedete i prezzi in Germania costano pochissimo, 65 centesimi. Noi le pagheremo un po' di più tra spese di spedizione perché dovete considerare l'importo complessivo. Se poi siete amiche che vi volete mettere insieme ovviamente risparmiate perché riducete i costi. Altro gel doccia ha i lamponi e guava e a me interessa tutta questa linea dove ci sono dei cristalli al profumo di cocco e pesca, nettalina, poi mi piace questa doccia crema e anche il sapone mani. Questi li ho già ordinati ma credo che la linea sia più completa perché dovrebbe essere per l'anniversario dei 25 anni del Rossmann. Uscirà anche questa linea molto vasta superfood, quindi crema corpo, vedo anche qui un cream peeling food, maschere viso, body spray, patch occhi e io di questa linea invece Beauty Summer, sono intenzionata a prendere la maschera decolleté in hidrogel e questo siero che spero, mi auguro sia come il siero di ormai due stati fa che mi ha stregata, che mi ha accompagnato per tutta l'estate, texture in gel leggerissima con questa profumazione afrodisiaca, mi verrebbe da dire di cocco, un cocco particolare che mi aveva conquistata. C'è poi la body lotion, c'è questo balm, questo liquid shimmer insomma a piacimento però non si può prendere tutto, ho fatto una selezione. La Shebens, spero si dica così, lancia sempre invece questi patch occhi che sono molto molto validi, io li trovavo sempre nel DEM in Austria, da noi arrivano ma non arrivano queste edizioni limitate sicuramente patch occhi che tra l'altro sono molto grandi in hidrogel come piacciono a me all'anguria, alla pittaia, al cocco ovviamente ma neanche lasciarlo lì, lemon posso sorvolare, papaya posso sorvolare tra l'altro vi segnalo nel caso voleste perché l'ho fatto anche per la collezione in collaborazione tra Catrice ed Essence, potete ordinare anche a Valentina i prodotti di Catrice e di Essence, in questo caso per il Pride, Happy Pride guardate che meraviglia, mi gasano tantissimo i pennelli, che dire anche di questa collezione Wild Jungle che ricorda molto le precedenti, interessante la palette però ne ho tante, potrei sorvolare anche questo blush illuminante bellissimo ma possiamo sorvolare, secondo me molto interessanti sono questi lip balm come saranno? Lasceranno un po' di colore, un po' di sbreluccico come questi illuminanti altrettanto carini sto utilizzando delle foto che potete reperire sul profilo Instagram di J Loves Beauty cosa vogliamo dire della nuova collezione di Essence dedicata ai gelati? Stupenda, anche di questa mi intrippano i pennelli viso fermi tutti, allora questa secondo le youtuber tedesche è sicuramente ispirata, liberamente tratta ispirata dalla Brazilian Boom Boom, quindi la profumazione è la stessa e dalla maschera viso che ovviamente, ma neanche a lasciarla lì, la vogliamo assolutamente provare come vogliamo provare? Doccia Schium Body Lotion, perché una delle particolarità di Sana che sapete, amo, ve l'ho detto tante volte, nei finiti, il 2 in 1 è una mousse che vi idrata tantissimo la pelle, non avete necessità del passaggio della crema post doccia quindi è favoloso, shampoo e balsamo che ogni estate presenta come la fragranza corpo che sicuramente ricorda la Brazilian Boom Boom e poi dovrebbe esserci questo spray presolare zucchero oil peeling come lo scorso anno avevamo questa e i patch occhi, ma neanche a lasciarli lì, all'acqua di cocco, agli estratti di rosa, eccetera, eccetera qualche pianta esotica quindi ricapitolando, se siete interessate, contattate Valentina io vi lascio tutto giù in info box e sicuramente ci riaggiorneremo su queste bellissime novità perché valgono, vi dico, sono veramente prodotti validissimi che ogni estate io prendo, acquisto e mi innamoro perché hanno delle profumazioni, secondo me, migliori per quanto riguarda Balea hanno una marcia in più io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao